Allora, questa marea. Vogliamo vedere come si costruisce e come si assembla? Come ho fatto a tirar fuori questo modello nero? E anche il bianco, che vi ho fatto vedere nell'altro video, al quale ho già cambiato i caps, sono dei modelli che sto facendo, che ho fatto, che ho messo insieme per provare la procedura, per vedere come stanno i colori, per scegliere qua il colore, la decorazione del bordino, e che adesso però vi faccio vedere in un lungo video di assemblaggio, non definitivo, attenzione, non definitivo, perché sarà proprio una procedura fatta così, un po' a caso, no? Diciamo, mettiamo insieme quello che abbiamo pensato io e Mattia durante tutto l'anno, registriamo, vediamo come va, e da lì poi partiamo per la stesura definitiva, che sarà quella che a settembre, col primo fresco finalmente, vi permetterà di comprare il kit della marea, bianca o nera, e poi riceverla a casa, e fare voi, no? La vostra tastiera personalizzata. Quindi adesso vedremo questa procedura, però lo ripeterò tante volte durante il video, e lo dico anche adesso, non è definitiva. Iniziamo! E ok, dai, iniziamo, divertiamoci. Prima però vi voglio far vedere la versione bianca, una marea bianca, una delle possibili maree bianche. Questa è la mia, ho cambiato i keycaps rispetto all'ultimo video. Suona da paura. Suona da paura. Devo però ancora decidere come, se tenere questi keycaps, devo cambiare questa, questa rotellona, questa manopola dell'encoder, anche se questa è bellissima, spessa troppo però, è tutta piena. Cioè, questo è un blocco di metallo, pesa tantissimo, però, diciamo, non è, non sta molto bene con tutto questo. Bordino dorato, anche questo ho messo un po' improvvisato e devo ancora ragionarci, e poi fondo, bianco, il fondo è in FR4, il plate è in alluminio, devo scriverci qua, marea, i piedini, che in realtà io vorrei un pochetto più alti, devo ordinarli, devo, devo trovarli, e stop. La sto usando da qualche giorno, anche per personalizzare un po' il firmware, poi dopo ne parleremo, e mi trovo da paura. È davvero, questa forma ergonomica è davvero, davvero bella. Poi, tra l'altro, poggia polsi, che devo ancora far fare con il tessuto che vi ho fatto vedere nell'ultimo video, ma al momento ho provato ad usare questo in legno, che non è il massimo, perché non sta tanto bene. Tra l'altro questo l'ho rifinito un po', e è andata via la protezione in cera che c'era sopra, in olio che c'era sopra. Però, voglio dirvi, scrivere in questo modo, con questo layout ergonomico, è una meraviglia. È davvero una meraviglia. Mi ha stupito, perché poi in fin dei conti è stata una sorpresa anche per noi, no? Per me e per Mattia, provare questo design sul serio. Comunque, passiamo alla nera, perché secondo me la nera sarà anche più bella. Al momento l'ho messa dentro questa custodia, questo astuccio, diciamo, vedete, che è una versione prototipo di quello che poi sarà anche possibile comprare, a poco prezzo, credo. Sono fatti da mamma, grazie mamma. Guardate qua la cucitura fatta ad onde, no? A gabbiano, ad onde, insomma, decidete un po'. Però devo ancora decidere un po' come dargli qualche tocco di colore, personalizzarli un po'. Saranno così pronti per contenere la marea, magari per gli spostamenti o semplicemente a casa. Che ne so. Io al momento ho messo tutto qua, poi voi avrete chiaramente una scatola, con tutto fatto per benino, no? Quando arriverà. L'apriamo? Vediamo cosa c'è dentro? Tipo busta sorpresa? Allora, il bottom in FR4, nero, con la mappa, nero all'interno, con la scritta marea, revisione 1.0. Qua a mano c'è spazio per metterci il nome, o il numero, volendo, dell'esemplare. Molto bello, molto spesso, un 1.6 mm. Questo era il bottom. Poi, bordino nero, bordino in legno, attenzione perché è molto, molto delicato. Attenzione, lo ripeto, perché è molto delicato, soprattutto qua ai lati, su questo lato qua, su questo lato, diciamo, destro, che però in realtà sarà il sinistro, perché poi la tastiera è così, quindi attenzione. Qua ho messo una decorazione dorata, perché la tastiera che faremo oggi è nera e oro, con i tasti neri e oro, quindi sta bene così. Devo ancora decidere se offrire soltanto due versioni, cioè una nera dorata, una bianca dorata, oppure fare diversamente. Ancora non ho deciso, perché il tutto si complica. O volendo potrei fare, lasciare il bordino soltanto in legno e poi ognuno se lo fa come vuole. Non lo so, devo un po' pensarci. Comunque voi nella confezione troverete il bordino, già forato da me con il Dremel a mano, eh. Questa è tutta roba fatta a mano, tutta roba fatta a mano. Poi, la favolosa PCB. Questa è tutta opera di mattia, eh. Guardate qua che PCB. I LED. No, vedete? Il tastino reset. La scritta Marea, versione 1. Tutto saldato, tutto pronto. Il firmware già installato. Dovete semplicemente collegarla e metterci gli switch e iniziare ad utilizzarla. Tutto davvero pronto, tutte le indicazioni. E abbiamo pensato di lasciare, comunque vedete, la faccia bella, no? Il lato pulito, senza scritte, senza nulla, e mettere tutto di qua. Tutto da un lato. Quindi anche le indicazioni di dove passare fuori, dopo lo vedremo insieme. Qua lo spazio per l'encoder, in alto a sinistra. E' bella la PCB. Davvero, davvero bella. E' nera, opaco, un po' sporca. Perché l'ho usata per fare uno dei test, no? Prima di registrare il video. Però è davvero bella la PCB della Marea. Bravo Mattia. Poi, nella confezione, ancora, questa forma, che è la forma che sta sotto il plate, tra il plate e la PCB, diciamo una foam di neoprene che taglio io con il mio incisore laser. 3 mm di spessore, che dovrebbe essere perfetta per contenere i suoni, creare una struttura più bella. E lo stesso vale per la, questa qua, che è il foam, diciamo la parte che sta sotto, il pad, ecco non mi veniva la parola. Il pad che sta tra la PCB e il bottom, quindi la tastiera praticamente sarà schiacciata tra questi due pad, che creeranno un bel suono, insomma. Tanta roba a trovare questa roba in confezione, i pad, perché di solito sono venduti a parte e via dicendo. E, alla fine, il nostro plate. Plate, anche questo in FR4, però disponibile anche in alluminio, volendo. Gabbiani. Bello il plate nero. La Marea nera, l'ho già detto, ma secondo me verrà meglio della bianca. La scrittina qua interna, vedete, tutte le scritte sono interne, così che l'esterno possa restare il più nero, il più pulito possibile. E stop. Poi all'interno, in realtà, voi troverete, intanto sposto un po' di cose. All'interno, voi troverete anche, ovviamente, tutte le viti e tutte le cosettine che vi servono, l'encoder da saldare, insomma, tutta un po' di roba. Qualche adesivo, adesivo Marea. Eccolo qua, mi raccomando, lo dovete attaccare nel posto più in vista della vostra città, del vostro luogo. E qualche altro gadget, incluso, e adesso non ce l'ho qua a maledizione, il piccolo portachiavi a forma di Marea. La minimarea, la minimarea, dai. Voi troverete all'interno, una cosa così che ho voluto un po' fare, questi sacchettini con dentro le viti per la procedura. Quindi passo 1, queste sono le viti del passo 1. Passo 2, queste sono le viti e pilastri del passo 2. Poi 4 e 9, vedete ancora, viti e pilastrini. Questo è tutto quello che vi serve. Per assemblarla vi occorre un cacciavite a stella, un cacciavite Philips, se volete fare i fighi. E in realtà un paio di pinze, oppure, per tenere i pilastrini, oppure, come ho fatto io, vi trovate una chiave a bussola così. Questa l'ho comprata su Amazon. E' molto, molto comoda, perché ovviamente voi mettendo questa riuscite a, non so, stringere una parte e stringere dall'altra. E' molto, molto comoda, insomma. Magari vi fa comodo. Però potete anche semplicemente usare delle pinze. Dovete semplicemente stare attenti, perché lavorate vicino ai componenti elettrici, quindi potrebbe esserci un po' di tutto. Basta, questo è tutto quello che vi occorre. Poi chiaramente il saldatore, lo stagno, gli stabilizzatori e qua ringrazio ancora Coffee Keys. Non ancora, ringrazio per la prima volta Coffee Keys, che mi ha mandato questi Duroc V2, che verranno usati in tutte le build. Grandi, grazie ragazzi. E va bene, dai, iniziamo. Prendiamo, come prima cosa, il plate. Prendiamo il sacchettino 1 del primo passaggio. Le istruzioni sono anche sul sito. Passo passo. Con tutte le foto, andate sul sito. Marea.mk Qui abbiamo quattro viti, quattro pilastrini e quattro rondelle. Quello che dobbiamo fare è mettere la vite qua, nei fori. Uno, due, tre e quattro. Rondella. Pilastrino. E si stringe. Vedete quanto è comodo questo? Tra l'altro, con la rondella non c'è neanche bisogno di tenere dietro la vite. Stringete bene, ma non stringete troppo. Lo ripeto, stringete bene, ma non stringete proprio a morte, perché si rompe il pilastrino e si può rovinare. Insomma, non serve, dai. Vedete qua, sul retro, ci sono i fori. I nomi ai fori. H1, H1, H1. Quindi nel primo passaggio bisogna riempire i fori H1, dette in altri termini. Quindi ne ho messa una, vado avanti con l'altra. E ok, primo passaggio, lo abbiamo concluso. Per il secondo, per andare avanti, ci serve la PCB. Eccola qua. Qua dobbiamo installare, e prendiamo il sacchettino 2, viti e pilastrini all'interno dei fori H2. È comoda questa cosa delle bustine numerate, no? L'ho scopiazzata da un prodotto cinese che mi è arrivato e era fatto così. Comunque, PCB. Vite e pilastrini. Qua non servono rondelle. Dovete identificare i fori H2. Eccolo qua, H2. La vite va sempre nella parte opposta alla scritta. La vite, la testa della vite va inserita nella parte opposta della scritta. Quindi dove è scritto H2 ci va il pilastrino. Uno. Non serve mettere le rondelle qua. Quelle che abbiamo messo nel plettera soprattutto sono, soprattutto per una questione di spessore. Non per isolamento perché abbiamo, come vedete, messo dei pad appositi sulla PCB. Attenzione, attenzione. E lo dico per esperienza perché anch'io ne ho rotto uno. Quando andate a stringere certe viti, accanto ci sono i diodi. E insomma, dovete stare un po' attenti. Dovete stare un po' attenti. Abbiamo lavorato per tenere la board più piccola possibile, più minimale possibile, ma ovviamente questa è la conseguenza. Ci sono delle cosette in cui è necessario stare un po' più attenti. Quindi qua bene, ma se ci andate con le pinze, attenzione che potete rompere il diodo. Nulla di particolarmente problematico perché il diodo si può sostituire se anche si dovesse rompere. Non sono componenti semplici che trovate online ovunque. Però, ve l'ho detto, prestateci attenzione. Prima di continuare però, fatemi ringraziare ancora una volta NordVPN, che è lo sponsor di questo video. Come sempre, loro d'estate fanno delle ottime promozioni, soprattutto nei piani pluriannuali, no? Ed è sempre l'estate un ottimo modo per fare degli acquisti che poi sono convenienti, risultano convenienti. La VPN fa comodo d'inverno a casa per guardare film, per la sicurezza, per tutte queste cose qua. Soprattutto poi loro hanno questo pacchetto completo di sicurezza che, nel mio caso, come vi ho già detto, fa comodo per postazioni di persone che hanno, diciamo, che non sono proprio esperte. Magari non come noi che usano proprio solo la VPN per certi motivi, ma persone a casa che magari devono avere un filtro sui contenuti, tutte queste cose qua. Con NordVPN nel pacchetto completo avete anche questo, ma fa comodo anche, anche appunto, d'estate, girando per i hotel, per i breakfast, senza connettersi alle connessioni e ai model che trovate a casa, che magari sono condivisi con il vicino o con il proprietario che sta sotto. Insomma, una VPN ci sta, soprattutto a questi prezzi, soprattutto poi quando è un servizio che ormai impiede da una vita, come NordVPN. Vi ringrazio ancora per il supporto a questo video, per permettermi di lavorare alla marea con molta, molta più calma. Adesso continuiamo, continuiamo l'assemblaggio. Dai. Poi, terzo passaggio, bisogna fare un po' di lavoro alla PCB, saldare un po' di cose. Tu non servi più, bisogna mettere l'encoder rotativo qua e saldarlo. Lo trovate già in confezione. Forse di un colore diverso da questo, ma insomma lo trovate in confezione. Abbiamo scelto dei modelli che fanno un buon suono. Ok. Tratto sul fondo della PCB, sul retro, trovate anche l'indicazione massima della grandezza della rotella, della manopola. E c'è scritto che è 40 mm. Però attenzione, perché se usate il layout ISO, quindi con il tasto di invio grosso, quello italiano, forse è meglio restare un po' più stretti di 40, 38, una roba del genere. Comunque, dovete saldare questo. E poi mettere gli stabilizzatori. Qua. Uno, due, tre, quattro. Poi dipende anche da che layout sceglierete di montare ISO, anzi, o misto, come ho fatto io. Comunque, iniziamo dall'encoder, dai, iniziamo dall'encoder. Lo salviamo. Ok. L'encoder, ovviamente, è personalizzabile. Via software poi si potrà personalizzare sia la pressione, sia la rotazione, via dicendo. Tra l'altro, vi lascio in descrizione il link di questo saldatore, perché è il TS80P piccolo, si alimenta con la USB-C. Carino consigliato, mi è sempre piaciuto. Metto qua, questo, per aspirare un po' i fumi della saldatura. Prendo lo stagno. Ho il cavo corto, accidenti a me, per gli switch dopo mi devo organizzare diversamente. Qua, volendo, potete piegare un po' le alette dell'encoder. In questo modo. Ed ecco che il nostro encoder è fisso, saldo, bello funzionante. Adesso, gli stabilizzatori. L'UROC V2. Vi lascio qua l'adesivo di Coffee Keys. Il sito italiano dove si possono comprare, insieme al tastiere meccaniche, via dicendo. Questo lungo non ci serve. A noi interessano quelli da due, cioè questi, che vanno messi. Uno qua. Uno qua, per le due barre spaziatrici. E poi, gli altri due. Qua, per il backspace, no? Qua, in questi fori. E uno per l'enter ISO, che si può mettere così, se vogliamo l'enter a punto ISO. Oppure si può mettere in quest'altro modo, cioè qua, se vogliamo un ISO lungo. Ora qua dovete decidere che tipo di layout volete sulla tastiera. Guardate questa mia bianca. È un misto. Ovvero, è un layout italiano. Vedete? C'è il control piccolo, cioè lo shift. È sbagliato il tasto, ma qua c'è lo shift piccolo. No? Con accanto le parentesi, il maggiore e minore, no? Però c'è l'ISO lungo. Quindi è un layout italiano con ISO lungo. Perché ho fatto questo? Perché mi piace l'ISO lungo. Preferisco questo ISO qua a quello classico italiano grosso, che va anche sopra, che copre anche sopra. E potete fare come volete. Potete scegliere italiano, americano, misto come ho fatto io. Anzi, guardate qua cosa ho. Il prototipo di Marea, che ho usato prima di queste build. È solo scheda, manca tutto il resto. Però vedete, qua c'è il layout italiano. Con l'ISO grosso, anche abbastanza sporco. Con lo shift piccolo, no? Volete fare un layout così? Potete farlo benissimo. Questo è il layout classico italiano. E oggi faremo un layout classico italiano. Quindi, quindi, questo qua va messo così. Andrà messo qua, questo stabilizzatore. L'unico inconveniente di tutto questo è che dovete deciderlo adesso. Dovete decidere adesso che tipo di layout utilizzare. Per molti di voi, immagino, sarà italiano. Quindi, lo faremo italiano, dai, lo faremo italiano. Uno, due, tre e quattro. E iniziamo a montare gli stabilizzatori. Prima, anzi, prima, un dettaglio che vi consiglio di fare. Un suggerimento, se volete fare le cose per bene o se non vi interessa, non lo so. Io adesso lo faccio solo per metà. Anche perché, come vedete, mi sono rimasti soltanto quattro. Questi sono dei tappetini, no? Insonorizzanti che si mettono sotto la base degli stabilizzatori per smorzare un po' il suono, il colpo che dà lo stabilizzatore. In realtà è tutto molto relativo. Non è detto che il suono smorzato sia migliore. Non è detto nulla. È tutto molto relativo. Io ne ho quattro. Uno, due, tre, quattro. Vedete, ormai mi sono rimasti solo questi. Li metterò sulla barra spazzatrice perché è quella che alla fine uno colpisce di più. E quindi magari qua potrei aver bisogno più di una insonorizzazione maggiore. Non li metterò qua, anche se volendo questa cosa, anziché comprare dei modelli già pronti come questo, che costano anche un po' per quello che sono in fin dei conti, basta mettere qua sotto del nastro carta oppure dei cerotti. Tanti lo fanno con dei cerotti tagliati, che è un materiale adesivo da un lato e un po' gommoso dall'altro, no? Il cerotto. Quindi si mettono qua, tre, quattro, tagliati a misura, all'incirca come questi. Ed ecco che avete risolto con una spesa più bassa. Noi oggi li metteremo solo qua sotto e qua, li lasceremo liberi così sentiremo un po' magari anche la differenza di suono, no? Tra i due. Iniziamo, dai. Iniziamo proprio da questi. Ok. Questo via. Allora, gli stabilizzatori vanno montati così. Questo qua, questo qua. In mezzo ci va lo stantuffo. Così. E poi si attacca a questo qui. Però bisogna prima lubrificare, lubrificare. Quindi mi serve il grasso che io ho. Eccolo qua. Krytox GPL 205. Questa è una cosa molto importante. Gli switch si possono comprare anche già lubrificati. Gli stabilizzatori possono essere buoni quanto volete, ma comunque un pochetto vanno lubrificati. Quindi investite in un po' di grasso. Mi raccomando, prendetelo da venditori affidabili perché altrimenti è finto. E poi qua ci sono mille, mille, mille varianti, mille modi, soluzioni creative e tutto il resto. Però è una cosa che un po' va fatta. Ed è una cosa che odio fare. Perchè ti sporchi le mani. Qua va inserito lo stantuffo. Così. E poi lo possiamo piazzare qua. Tac. Poi sotto c'è la vite. E si fissa. Vedete qua sotto. Nella confezione trovate. Togliamo questi, togliamo questi. Trovate le viti e la rondella rossa. Costano un 20-25 euro questi stabilizzatori buoni qua. Gli stabilizzatori senza marca, diciamo cloni di questi, cinesi, costano molto molto meno. Però magari hanno bisogno poi di essere un po' ottimizzati. Bisogna tagliare il clipping che sono quelle alette che ci sono sotto. Insomma, dipende anche da quanti ve ne servono. Secondo me se ve ne serve uno soltanto. Cioè per una tastiera soltanto. Comprate quelli buoni. Voglio dire, una volta che lo fate. Una volta che sono dentro. Incastrati. Ed ecco li che funzionano. Dopo ci mettiamo ancora un po' di grasso. Perché toccando e smanettando qui la roba, il grasso fa via. Ops. Andiamo avanti. Eccoli qua. Olè. Andiamo. Olè. Adesso. Grasso. Aggiuntivo qua dove c'è il punto più importante. Cioè ovvero dove il pilastrino tocca le plastiche. E il terzo passaggio è completato. È completato. Passaggio numero 4. Sacchettino con 4. Allora, le viti ci serviranno dopo perché sono per il passaggio 9. Che poi è quello finale. Quindi pilastrini. I pilastrini ci servono per mettere in contatto il plate con la PCB. Però prima dobbiamo mettere questo che è il pad di neoprene. Ora, questo va così. Così. Ok. Questa forma non è proprio precisissima. O meglio, è precisa ma è tagliata un po' male perché l'ho dovuta tagliare poi a mano perché con il laser insomma ho scelto una velocità troppo alta. Vabbè, la vostra sarà migliore. Prometto quando farò i tagli definitivi insomma. Quindi, questo qua, questo sopra. Attenzione qua a incastrare bene gli stabilizzatori. Ci vanno un po' a forza. Ecco qua. Schiacciate tutto bene. Assicuratevi che sia a fine corsa. E praticamente abbiamo attaccato il plate sopra alla PCB. O meglio, abbiamo appoggiato. Vedete, tutto torna. L'encoder esce. Gli stabilizzatori escono. Adesso, con le viti, anzi con i pilastrini, che sono questi qua, bisogna fissarlo nei fori H3. Quindi prendo questo. In questo caso gira anche la vite dietro, quindi fisso qua e giro un po'. Mai, mai troppo. Sempre in maniera graduale. Olè. Tu stai qua. Ok. Adesso ci divertiamo perché è arrivato il momento di incastrare gli switch. Io vi faccio vedere cosa ho scelto. Ho scelto questi ACCO Match Green. Già lubrificati, vedete? Mi ho due pacchi. ACCO mi ha mandato i keycaps, quelli che avete visto, quelli che vedete dopo. Mi ha mandato questi switch. Che sono, tra l'altro, arrivano in queste belle confezioni, belli divisi. Danno una bella soddisfazione anche in questo. Insomma, sono prodotti, chiamiamoli economici, perché non costano certo come i modelli di marca, diciamo. Però sono davvero soddisfacenti. Qua ne mancano alcuni perché li ho inseriti come stabilizzatori, negli stabilizzatori dell'altra tastiera. Ma comunque è un altro pacco. Questi sono, vi faccio vedere le specifiche. Sono dei lineari da 50 grammi, vedete? Precorsa di 1.9, corsa di 4. In breve sono dei simili ai black di cherry, per dire, per farvi un po' capire. Per avere quel feedback là. Però sono già lubrificati e quindi molto molto fluidi. Io voglio usarli per la parte, insomma, diciamo per tutti i tasti, qui. E voglio usare invece questi altri, che sono sempre ACCO, ovviamente. Sono i Gelli White, che sono quelli che invece ho usato proprio per i tasti principali dell'altra tastiera. E questi sono sempre lineari. Però hanno 35 grammi di forza, quindi molto molto più leggeri. Sempre lubrificati, vi faccio vedere le specifiche. Eccoli qua. 35 grammi, 1.9, 4 di corsa, lineari. In breve è una versione più leggera degli altri, dai, si può dire. E questi li voglio usare per la barra e per i due tasti qua. Perché l'idea è, anzi, anche qua, anche qua. L'idea è, come si fa su altre tastiere, avere i tasti lontani un po' più morbidi rispetto ai tasti centrali. Che è l'esatto contrario di quello che ho fatto in quella tastiera lì. Però, vabbè. Qua bisogna un po' prestare attenzione a, ovviamente, il layout che si è scelto, mettendo gli switch bene. Ma qua bisogna semplicemente iniziare ad incastrarli. Attenzione ai piedini. Attenzione ai piedini quando li inserite, perché si possono piegare in un attimo. Poi sotto, ovviamente, vedete il piedino che esce, che poi è quello che andremo a saldare dopo. Quindi qua, qua. Qua mi dimentico sempre che va al contrario. Io li metterò anche sotto qua. Ma sì. Anche l'esc, dai, perché no. Tutto il resto lo facciamo con i blu, no blu, verdi, verdi. Ok, arrivati a questo punto dovete saldare gli switch. Io non vi faccio vedere adesso la procedura. Non ve la sto facendo vedere. Perché non l'ho registrata? Perché quel video doveva essere soltanto così indicativo per me. E poi, in realtà, è venuto fuori questo filmatone. Quindi ho detto, ok, mettiamoci in mezzo uno stacchetto per commentare la saldatura degli switch. Che, a fine conti, è molto semplice. Se volete avere informazioni sul saldatore che ho usato, c'è il link in descrizione. Se volete comprarlo, c'è il link sotto. E mettetevi là. Buon divertimento. Mi raccomando, un aspiratore per non avere in faccia i fumi dello stagno. Perché, insomma, ci vuole un po' per saldare tutto. E quindi non è una procedura da tre secondi, ecco. E poi, e poi, dopo andiamo avanti. Bordino, bottom, piedini e programmazione. E iniziamo. Allora, vi devo dire una cosa. Guardate il layout. Vedete, il tasto ISO è diventato lungo. Sopra c'è la U accentata. Lo shift diviso. In breve, dalla registrazione dello spezzone precedente ad ora, è passata la notte. E io, ieri sera, guardando la tastiera nera così, ho detto, cavolo quanto viene bella. Cavolo quanto viene bella. Ho provato a mettere insieme i pezzi. E così ho detto, sapete cos'è? Me la faccio per me. Me la tengo per me al posto di quella bianca. E così ho detto, però, io la voglio con il mio layout strano. Con il mio layout che ha l'ISO lungo e tutto il resto in italiano, no? Anche per una questione di design. Perché, come vedremo, l'ISO lungo mantiene meglio la linea. Guardate questa, che è fatta proprio così. Vedete? Mantiene meglio la linea. Questo. E così, in breve, per farvelo breve, ho approfittato per usare quello fantastico strumento che ho di là per dissaldare con la pompa d'estrazione, che non avevo mai avuto modo di utilizzare. E ho cambiato la posizione di alcuni switch, la posizione degli stabilizzatori. Spostare gli stabilizzatori da qua a qua è stato un incubo. È stato un incubo. E non vi consiglio di farlo. Infatti, bisognerebbe dissaldare tutto. Vabbè, io sono un po' riuscito facendo un po' di forza qua sotto. Però, insomma, non è una roba da fare. Io l'ho fatto anche perché, alla fine, queste sono delle borde di sviluppo. E va bene così. Ma se voi avete comprato una tastiera e dovete, insomma, cercare un po' di rovinarla facendo questo ciocchetto, insomma, non è una grandissima cosa. Comunque, andiamo avanti. Andiamo avanti. Il prossimo passaggio è quello di installare il famoso bordino. Il famoso bordino. Il famoso bordino che non ho qua sopra neanche ancora forato per la USB-C. Fatemi dare un altro passaggio qua. Il bordino va così, praticamente. Bisogna inserirlo qua. Fare sempre molta, molta attenzione perché è delicato. E incastrarlo poi sotto, così. E sopra, poi qua, bisogna fare il foro per la USB-C. Io, ora, devo ancora decidere se lasciarlo così o farvelo già, darvelo già forato. Però in linea di massima, si fa così. Si cerca la USB-C, che comunque è a filo. Si fa un leggero taglietto. No? Poi si prende un cavo USB-C. E si va dentro. Credo alla fine che converrà a farlo a me, anche se così sarebbe un pochetto più preciso. Vabbè, ci penserò. Ho tutta l'estate per pensare a questi dettagli. Magari farò un'altra build. Al bottom, prima di installarlo, perché poi abbiamo tecnicamente finito, bisogna mettere i piedini. Io ho scelto questi che sono un po' piccoli in realtà per me, ne vorrei di più alti, ma non sono molto semplici da trovare. Vanno uno qua e uno qua. E poi qua davanti vanno messi i piedini in gomma, insomma, no? Antiscivolo, diciamo. I viti sono qua. E qui si tratta semplicemente di mettere la vite. In questo caso, volendo potete anche semplicemente incollarli, se i vostri piedini sono adesivi. E adesso si prende questa, si mette dentro questa forma, la seconda forma. Assicuratevi di metterla, farla entrare bene, anche qua, è tutta questione di dettagli e assicuratevi qua di far entrare bene i fori, vedete, i buchi. E adesso, chiudete tutto. Stringete tutto senza ovviamente rompere nulla. Credo che questa tastiera poi sia un po' come i mobili Ikea, no? Ogni tanto ha bisogno di un cacciavite, un giretto. E adesso, forse la parte più divertente finalmente dopo tutta questa, dopo tutto questo. Keycaps. Keycaps. Allora, io userò Keycaps Acco, come vi ho fatto vedere prima. Profilo Asa. PBT Double Shot. Andiamo. È tutto pronto? Possiamo iniziare. Io inizio a caso e poi vedremo, insomma, come va, no? I colori, cose varie, le metteremo poi nel tempo. È inutile, anzi non l'esca, lo mettiamo subito giallo. Ovviamente questo non è un set con l'italiano. Quanto è molto più leggero l'esca con lo switch bianco? Quindi questo è un set che, diciamo, non rispecchia, non rispetta anzi. Anzi, mettiamo lo giallo, dai. Poi. E per le due barre spaziatrici si usano, di solito, gli shift rovesciati. Vedete? Non lo metto così come andrebbe, ma lo metto così. Perché è più comodo. Poi alt. E questi sono i due tasti, diciamo, funzione, fn, diciamo, fn1 e fn2. Io metto fn qua e menu qua. Comunque tutto, tutto personalizzabile. Dopo lo vedremo nel software. E adesso devo decidere se mettere... No, voglio le mettere ai nere. Proviamo con nere. Tanto cambieremo idea dieci volte. Ok. Ma forse è meglio gialle. Com'è? Com'è la tastiera? Io metterei l'esk giallo. Sì, che dà un po' di colore. Io di solito qua, questo è un tasto in più, perché questo layout qua ha un tasto in più. Di solito si replica la B. Cioè, questo tasto qua replica la B. Quindi sono due B unite, praticamente. È molto comodo farlo così. E quindi qua ci andrebbe una B. Ora io ho due B, non le ho ovviamente. Ci metterò dentro un altro tasto. E per dare un tocco di colore, ci posso mettere un menu... Così? Questo cos'è? No. Ci metto un menu nero. Però a questo punto qua o ci metto un menu nero, scusate, perché altrimenti... O ci metto questo, che dà una continuità diversa. Sì, forse è meglio così. Non lo so. No, troppo banale. Vai con il menu nero. Non sono convinto. Non è... Sì, penso che così sia migliore per adesso, diciamo. E poi, sapete cosa manca? L'encoder. Io ho questo qua nero. Quindi questo... Wow! Chiudiamola. Qua anche c'è il mondo. Sto aspettando anche la manopola qua dell'encoder dorata. Mi raccomando, prendete modelli in metallo, eh. Non prendete cinesate in plastica per risparmiare 3 euro. Che poi sono brutte. Ecco qua. È una bella sciccheria, no? E ve la dovete immaginare poi. Questo encoder ha un rumore meraviglioso. Ha una sensazione, un feedback meraviglioso. Quale preferite? Qua manca un encoder, diciamo, decente. Questa è solo una prova. Sono due prototipi, dai, queste tastiere. Due idee. Due idee che ho voluto fare per montarla e vedere un po' le cose che vanno corrette, le cose che vanno sistemate. Quale preferite? La bianca? La bianca è un po' più difficile da fare, perché la nera basta farla tutta nera e effettivamente viene elegante. La bianca è un pochetto più complicata. Questi keycaps forse sono troppo accesi. Forse dovrei togliere questo F8 e questo menu colorato. Non lo so. Devo un attimo... Oppure potremmo mettere l'F8 anche qua. Che ne dite? Potrebbe diventare una caratteristica. L'F8 al posto dell'8. Come suona? Stabilizzatori. Questi non hanno il cerotto. E infatti si sente. Si sente il colpo. Anche qua, sentite, qua c'è il cerotto. Qua c'è il cerotto. Qua no. Si sente il colpo, ma non è detto che sia peggiore. Perché questi stabilizzatori comunque sono molto buoni e vedete sono molto stabili. Guardate il tasto, non si muove per niente. Cioè, guardate, è bloccato e va giù benissimo. E questo è uno dei grandi vantaggi delle tastiere meccaniche, no? Rispetto alle cosacce in membrana. I tasti sono stabili. E però... Ora, ve la immaginate con il poggiapolsi. Ora, vabbè, facciamo una prova così a caso. Questa è la forma del poggiapolsi che dovrebbe avere. Vabbè, c'entra nulla. Proviamoci quello di legno, anche se è praticamente non rifinito e un po' più piccolo del reale. Però già così, già così non è brutto. Già sulla nera... Wow, quanto è comodo questo poggiapolsi. I poggiapolsi sono un po' smussati qua, vedete? Questo non tanto, ma quelli definitivi che mi sta facendo Alessio di Vallei Wood Labs. Eccolo qua. Lo trovate anche su Instagram. Seguitelo, vedete? Queste sono delle prove che ho fatto per fare con l'incisore il loro logo e via dicendo. Alessio si sta occupando di questo. I poggiapolsi me li ha fatti lui in questo doppio legno. Poi vi dirò tutto a settembre con più calma, ci sarà tutto scritto sul sito. Però sono comodissimi. Cioè, guardate il polso, come appoggia e come va. Questo layout è meraviglioso. Io lo sto provando per la prima volta, l'ho provato per la prima volta con questa marea. Non sono un esperto di tastiere divise con layout ergonomico. È bellissimo. E immaginate questo, con la stoffa che ho scelto per qua. Per, diciamo, per questi io vorrei mettere questo. Come sta? Non lo so, è da vedere, è tutto da vedere. È tutto da vedere. È anche difficile far lavorare questo misto seta. È un po' complicato, devo andare dal tappeziere a farli fare. Pensate un po'. Oppure questo. Questo era il modello per il bianco, però forse, boh, che rendite? Fare dei kick-up, dei poggiapolsi così. Va bene. Adesso cosa resta da fare? Beh, resta da collegarci il cavo, collegarla al computer e programmarla, farvi vedere come si può programmare e tutto il resto. Collegata alla tastiera. E aperto Vial. Ecco che si può personalizzare ogni singolo tasto, ogni singolo layer. Ci sono quattro layer, vedete qua sopra, uno, due, tre, zero. Zero è la base. Qui l'idea è magari avere layer 1 con le scorciatoie per un programma, layer 2 con le scorciatoie per Photoshop, oppure per gestire l'illuminazione RGB. Layer 3 e via dicendo. Ce ne possono creare quattro. E poi si passa da uno all'altro attraverso il tasto che preferiamo. Noi di solito abbiamo messo qua i tasti, vedete, che sono FN e menu. Questi qua in basso, accanto al pad direzionale, che attivano in modalità momentanea oppure permanente. Momentanea significa che dovete tenere premuto quel tasto e poi premere l'altro tasto per avere la funzione. Oppure permanente che voi premete, che ne so, FN2 e switchate automaticamente in layer 2 e poi dovete tornare indietro. Tutti questi dettagli li trovate poi nel sito. C'è una guida un pochetto più specifica, passo passo, comunque molto semplice. E volendo sul sito di Vial o sul sito di CoinKey, che è il firmware che sta alla base di tutto, trovate veramente le istruzioni. Qua si può personalizzare all'infinito. Facciamo una cosa scema per dire, vedete qua sopra ci sono dei tab, lighting è la luce e adesso ho messo tutto spento. Però posso anche attivare un effetto, l'effetto Christmas. E la luce poi viene emessa dai led che stanno sul fondo, quindi non si vedranno adesso così sulla tastiera, sono sul fondo. E appunto si vedono soprattutto un po' la sera, perché trapassano attraverso i tasti. Insomma si vedono un po' così. Se volete vedere i led laterali al bordo e via dicendo, vi consiglio un po' di forare il bordino, magari con un trapano, fare un po' di lavori lì, oppure togliere addirittura il bordino. Allora sì che si vede l'effetto, insomma, luce ambientale. Ci sono diversi effetti, ci potete giocare un po'. Magari è anche comodo mettere una luce solida, con un colorino chiaro, un giallo, una cosa del genere, da attivare magari soltanto la sera per avere, che ne so, un po' di ambiente. A noi adesso chiudo tutto e faccio vedere poi quegli altri tab velocemente. E' importante qua in layout selezionare, insomma, il proprio layout, avere una rappresentazione grafica di quello che è il proprio layout. Vedete, se io clicco qua, ISO Enter diventa grosso. Io lo lascio così, praticamente. Quello che abbiamo fatto, quel layout misto. ISO lungo e left shift splittato. Vedi? Altrimenti sarebbe lungo così. Questo mi aiuta a vedere qua una rappresentazione buona. E poi io qua, ecco, posso cambiare il comportamento di ogni singolo tasto, scegliendo tra quelli che sono disponibili sotto. Basic, ISO, qua sono i tasti per cambiare layer, backlight, appunto per regolare l'illuminazione, media, mouse, le macro, quelli personalizzati dall'utente. Ovviamente si può fare di tutto, ma facciamo una cosa semplice. Che ne so, vedete qua la doppia B, come vi dicevo prima. Se io voglio fare in modo che questo tasto qua aggiuntivo non sia una B, clicco prima sul tasto e poi sottosciego quello che voglio. Se io voglio che questo sia un, che ne so, left alt, oppure se io voglio che questo sia un backspace, oppure se io voglio che questo sia il tasto 5, oppure se io voglio che questo sia il tasto mute, quello che voglio. Importante, importante, oppure il find può essere comodo, no? Per aprire la ricerca. Importante è che una volta che avete modificato questo non dovete far salva o qualsiasi altra cosa, vi basta applicarlo e la tessera automaticamente si attiva in quella modalità. Importante qua vedere anche l'encoder con il volume, con il tasto media, che è, con il tasto insomma di pressione, perché l'encoder è sinistra-destra e pressione, che si può personalizzare, e stop. Noi ve la forniamo con un layout, diciamo, standard, che ha il tasto delete, cancella, vedete qua, applicato sullo shift destro. Quindi uno preme lo shift di destra e c'è il delete, che altrimenti non sarebbe presente, proprio perché manca il tasto in questo layout, nella nostra forma un po' più compatta. Vial è molto semplice, funziona per Windows, Linux e Mac, io lo sto usando su Linux in questo momento con un arch, e quindi vi consiglio davvero di smanettarci un po' e giocarci un po', perché è tutto abbastanza immediato. E volendo potete andare molto molto in profondità. Un'altra cosa carina che potete fare, poi, un'olta che avete finito, ecco, andare in file e salvare il layout corrente. In questo modo lo state esportando, praticamente, vedete, vi crea un file .vil, via layout, che potete poi salvare, condividere con un'altra persona, insomma, in qualsiasi caso avete un backup dell'impostazione completa della vostra tastiera. E quindi è comodo magari farlo e poi salvarlo là, in futuro, andare a rivedere, magari uno si modifica tante cose e poi si dimentica, come era all'inizio. E qua può personalizzare, personalizzare tutto. Sarebbe anche bello, e anche bello, magari in futuro lo farò, avere delle macro che fanno delle cose particolari, magari con Linux, con, che ne so, con il tiling, impostare automaticamente un certo tipo di layout, dividere le finestre in un certo modo, fare una sequenza di comandi, insomma, anche per il gaming, no? Certamente, perché in fin dei conti questa è una tastiera che con gli switch giusti può essere anche adatta al gaming. Perché no? Perché no? E allora, dai, quindi, vi è piaciuta o no questa marea? Dai, la build nera è bella, è davvero bella. Io poi la sto usando da quando ho registrato il video di oggi, sono passate due settimane, la sto usando tutti i giorni, come vi ho fatto vedere su Instagram, su quel glorioso XPS 17. Ed è fenomenale, va veramente, veramente comoda, tutta personalizzata per le scorciatoie con Premiere. È bella da vedere, è bella da vedere, è solida e sono davvero contento di aver tirato fuori questa build. La bianca probabilmente è più difficile da mettere a punto, da far spiccare. Però ci proverò, ci proverò. Perché a settembre ci sarà, oltre all'apertura del sito definitiva, oltre alla possibilità di prenderla, anche un altro video, magari un po' più minimale, con i passaggi un pochetto più concreti, meno chiacchiericci, meno dispersivi, per farne vedere ancora una volta come farne una, farne una. Se avete bisogno di maggiori informazioni, sul sito marea.mk potete lasciare la vostra mail alla newsletter, che poi è sempre la solita di TheCard.com, è sempre quella, per essere anche aggiornati quando poi sarà tutto disponibile. La scriverò qualche giorno prima, insomma, di aprire il sito, attenzione perché sto per aprire tutto, quindi tenete bene gli occhi aperti e stop, ecco, iscrivetevi se vi va. I pezzi sono pochi, sono davvero pochi, quindi servirà un po' di anche fortuna, no, per poter prendere la versione, la versione kit. È tutto, dai, ci vediamo a settembre, con il fresco. Buone state a tutti! Buone state a tutti!